Il Torrione è stato riaffidato per altri due anni, quindi fino al 2019 all'Associazione Culturale Radici, siamo in compagnia di Giuseppe Magaldi, Presidente dell'Associazione. Quale miglior modo per inaugurare, rinaugurare il Torrione se non facendolo con una mostra? Mosaici, linei? Sì, proprio il primo giorno di apertura l'abbiamo voluto fare con un'inaugurazione, siamo nella casa di Giovanni Maltese e inaugurare con una mostra d'arte mi sembrava la cosa più bella. Riguardo l'affidamento, per fortuna dopo tante peripezie burocratiche per la maggiore, si è arrivati al riaffidamento per il biegno 2017-2019, quindi dovremo concludere questa nuova avventura a fine settembre 2019. Per il resto nulla è cambiato, se non la voglia di fare in più di tutti quanti noi come associazione, si ricomincia con una mostra per farne altre e per fare altri eventi. Sicuramente ci saranno delle novità durante l'inverno, abbiamo paventato l'ipotesi di fare il Cineformo già da un paio d'anni, presi da tante cose che non ce l'avamo riusciti, quest'anno speriamo di metterlo in cartellone. Grazie alle immagini di Giovanni Iagone, grazie ovviamente all'autorizzazione tua Giuseppe, abbiamo avuto l'opportunità di vedere, vediamo in anteprima, scorrono in sovrimpressione, le immagini di alcune delle opere che sono state realizzate per questa mostra. Vogliamo scendere un po' più nel dettaglio e parlare proprio di mosaici linei. Sì, questa è una mostra particolare ed è una novità, in quanto non mi risultano altre esperienze di questo tipo. Giovanni Amalfitano, un artista che per diletto si è dedicato da qualche anno a questa attività, ha creato dei mosaici con più tipi di legno, con una tecnica tutta sua. Sono tutti pezzetti di 7 mm di spessore che sapientemente ha selezionato e ha unito per creare per lo più panorami, panorami, piazze, troveremo piazze di tutto il mondo, posti che lui ha visitato. La storia del mosaico risale praticamente alla notte dei tempi. Io ricordo un mosaico di Pompei davanti al quale sono rimasto a bocca aperta che era fatto da un milione e mezzo di pezzi. Immaginate che cosa bellissima. Qua siamo con molti meno pezzi ma con una difficoltà non poca perché creare delle prospettive, creare la profondità su un piano, in due dimensioni, è sempre una bella scommessa.